Buonasera, ben ritrovati, una nuova puntata di Angoli, buon inizio d'aprile. Oggi è il primo d'aprile, di solito una data destinata agli scherzi, invece parliamo sul serio, parliamo un po' di astrologia o comunque di quelle che sono le previsioni per questo mese, lo facciamo sempre all'inizio di ogni mese, vi diamo un po' qualche consiglio, qualche spunto di riflessione in compagnia di Franco Copes, intanto però vi ricordo la nostra mail angoli-espansionetv.it da utilizzare per scriverci, rimanere in contatto con il nostro programma. Adesso do il ben ritrovato a Franco Copes, il nostro asso sensitivo. Ben trovati a tutti gli ascoltatori e un buonasera anche a te Claudia, anche se poi alla fine avremo una sorpresa, è vero Claudia? Sì, daremo una piccola anticipazione. Anticipazione. Io direi che il mese di aprile, sai che il detto è aprile dolce dormire, ok, speriamo invece che le persone che ci seguono ascoltino attentamente l'oroscopo di questo mese di aprile. Per cui non dormire mai, stare con le orecchie ben tese. Un'altra cosa che mi permetto di dire è che ringrazio le persone che mi hanno chiamato perché hanno vinto con il gioco dell'otto. Ah, quindi abbiamo dato anche un bel servizio. Io comunque, chi dovesse vincere, non chiami me direttamente, chiami anche la redazione, anche per... Così ci sentiamo un po' partecipi di questo successo. Partecipi. Anche questo mese volevo fare qualcosa di diverso, ma ho rimesso i numeri da giocare all'otto. Vediamo se facciamo il bis, se è stata solo fortuna o se veramente riservi qualche sorpresa. Cominciamo allora con il segno dell'Arieta. Quindi per voi le storie sentimentali che state vivendo sono storie che devono essere assolutamente vissute con grande, grande, grande determinazione. Perché questo mese di aprile, per voi Ariettini, la situazione sarà esaltante, ma sotto tutti gli aspetti. Principalmente sarà la sfera sentimentale, ma anche la sfera professionale vi darà delle grosse, grosse soddisfazioni. Quindi comunque un bel... Un mese di... Si comincia bene. Bene. Per voi, del segno dell'Ariete, la ruota che dovete giocare è la ruota di Palermo e i numeri sono 5, 23, 76. Ripeto, Palermo, 5, 23, 76. E in bocca al lupo. Quindi prendete nota perché lo abbiamo fatto già dal mese scorso, ma abbiamo avuto riprova che insomma in qualche modo ci si becca. Sì, io però premetto sempre, non esagerate, giocate tranquillamente, un euro e due euro, ma non giocate. Nella giusta misura. Esatto, nella giusta misura, brava. Andiamo avanti con il segno del toro. Brava. Per voi del toro invece sarà un mese impegnativo a livello professionale, quindi lavorerete duramente, ma alla fine potrete aprire quel cassetto e contare quei bei soldini che vi hanno permesso di essere parsimoniosi. Quindi se prima si dava un po' più risalto all'amore per il toro invece più al portafoglio. Però tu lo sai che io faccio l'oroscopo come lo sento, sai a volte lo faccio sull'amore, una volta lo faccio sul lavoro, perché secondo me essendo sempre uguale, quindi per l'ariete è il mese dell'amore, che però combacia un po' col tutto. Il toro questo mese di aprile è fondamentale professionalmente. Quali sono i numeri fortunati? I numeri da giocare per voi del toro sono sulla ruota di Torino e sono 1, 27, 36. Ripeto, 1, 27, 36. Ok, quindi andiamo avanti, stavolta ho dovuto sbirciare, lo ammetto. Segno del cancro. No, segno dei gemelli. Ho sbagliato, quindi c'è prima gemelli. Sì, vedi. E ho scritto anche male. Mi sa che allora alla fine meriti questo piccolo... Una punizione. Una punizione. No, assolutamente. Per voi dei gemelli, anche voi, è un mese decisamente fortunato in campo professionale. Avrete modo di avere incarichi e chi sta per iniziare un nuovo lavoro avrà delle grosse, grosse opportunità di riuscita. Una cosa che per i gemelli per il mese di aprile, attenti alle spese, perché in alcuni momenti voi dei gemelli vorreste spendere e spandere. Siate un po'... Oculati. Oculati. Anche perché poi arriveranno le vacanze e li spenderete sotto quell'aspetto. Perché forse poi è questione di gusti, insomma. Ognuno sceglie come... Esatto, esatto. Per voi del segno dei gemelli dovete giocare su tutte le ruote 47, 58, 69. Ripeto, 47, 58, 69 su tutte le ruote. Non una ben definita, ma un po' dove si... Su tutte, sì, esatto. Va bene. Stavolta è giusto il cancro. Cari voi del cancro, mese che sarà l'amore a fare da padrone, ma nel vero senso della parola. Quindi situazioni super favorevoli dove per voi ci saranno grosse opportunità e chi ha già una storia super collaudata potrebbe mettere anche la possibilità di programmare un figlio. Insomma, la ciliegina sulla torta. Esatto. Mentre per chi è single del segno del cancro ci potrebbe essere l'incontro fatale che potrà cambiare completamente la vostra vita. Ah, che bello. Sì. Belle notizie, quindi. Peccato. Te l'ho detto, siccome già viviamo in un periodo non... Cioè, diamo un po' di... Ottimismo, lo diciamo sempre. Per voi del cancro dovete giocare sulla ruota nazionale, ripeto, ruota nazionale, 66 77 90. 66 77 90. Andiamo quindi al segno del leone. Brava. Vedo che... Mi sto riprendendo, ho avuto una piccola defaianza. Per voi del leone, mi raccomando, ecco, l'arrivo dell'aiuto delle stelle vi conforta e vi farà vivere momenti appaganti sotto tutti gli aspetti, professionali, sentimentali, familiari. Un figlio avrà bisogno di voi, mi raccomando, dategli ascolto. Una cosa per voi del leone, dovete solo stare un po' attenti alla salute, ma niente allarmismi. Quindi, giusto quel poco, quello che consente anche magari lo spazio di temperatura, la primavera. Anche se, diciamo, come avevamo detto all'inizio dell'anno, è uno dei segni fortunati. Per quanto riguarda il mio percorso, diciamo, di sensitivo nel fare l'oroscopo, questo mese di aprile per voi del leone qualche piccolo problema di salute c'è, ma niente allarmismi. Beh, d'altronde, voglio dire, abbiamo detto che comunque l'anno sarà un anno super positivo, ci può stare qualche momento. Sì, però io ho una carissima amica del leone. Quindi meglio? Dice, no, no, mi ha detto, se è così, ogni giorno gliene succede una, dice, altro che essere super fortunata. Io gli ho detto, tranquilla, arriveremo a dicembre che poi farà il punto della situazione. Beh, sì, si fa un po' un bilancio. Esatto. I numeri. I numeri sono da giocare sulla ruota di Cagliari e sono il 23, il 56 e l'89. Ripeto, Cagliari, 23, 56, 89. Andiamo al segno della Vergine. E sai chi è? No. Non conosci nessuno? No. Va bene. No, qualche zio. Ecco, allora, per, diciamo, in generale, è l'amore che per voi anche della Vergine avrà il suo percorso molto bello. Una cosa per voi della Vergine dovete cercare di capire un po' di più la persona che vi sta vicino. Anche perché nei mesi passati le persone che vivono un rapporto super collaudato o iniziale o addirittura i single che si sono appena lasciati del segno della Vergine devono valutare e essere un attimino un po' più dolci nei confronti della persona amata. Perché la persona amata ha bisogno anche qualche volta di romanticismo. Quindi non dare niente per scontato. Esatto. Per voi del segno della Vergine dovete giocare sulla ruota di Firenze 10, 41, 85. E questi sono i primi sei segni di questo mese. Ci fermiamo. Solo pochi istanti di pubblicità. Continuiamo tra poco con tutti gli altri segni. Anche il mio e poi la piccola sorpresa alla fine. Non mancate. Tra i tuoi appuntamenti non può mancare Tributo di Vino. Evento enogastronomico in data 4, 5, 6 aprile presso la Villa Rosnati di Appiano Gentile. Degustazione di vini e prodotti tipici regionali. Mostra di moto d'epoca, giostre e animazione per i più piccoli. Tributo di Vino. 4, 5, 6 aprile ad Appiano Gentile. Il lavoro che vorrei. Il programma per chi cerca lavoro. Il lavoro che vorrei. Dal lunedì al venerdì alle 19.25 su ETV. Nessun dorma. Occhi aperti sulla realtà quotidiana. Nessun dorma. Tutti i venerdì alle 21.00 su ETV. Ben ritrovati. Seconda parte di Angoli. Quest'oggi intera puntata dedicata all'oroscopo. Come sempre, in compagnia del nostro astro sensitivo Franco Coppes, ci rimangono gli ultimi sei segni dello zodiaco. Quindi a partire dalla bilancia. Ok. Cari voi della bilancia, mese decisamente impegnativo, ma nel vero senso della parola, perché sarete impegnati su tutti i fronti, specialmente in campo professionale. Cari bilancini, dovete ogni tanto pesare un po' tutto quello che volete fare. Non è detto che quello che iniziate possa essere quello che porterete a termine. Però se avete la tenacia e la determinazione, per voi il mese di aprile sarà il mese in cui seminate, seminate e poi raccoglieremo. Quindi anche lì, insomma, a lanciare un po' di ami per cercare. Siccome molti della bilancia hanno giocato il mese scorso, ma hanno giocato anche altri numeri dagli altri segni. Hanno fatto un po' i furbi. Esatto. A voi della bilancia, ricordo che dovete giocare sulla ruota di Genova, poi giocate i numeri che volete, 41, 47, 78. Ripeto, sulla ruota di Genova, 41, 47, 78. Arriviamo al mio segno, lo scorpione. Sagittario. Eh no, volevi passare oltre? Sì, sì, sì. Così saltiamo a peppare. Volevo saltare il sagittà e lo scorpione. Scambiamo. Va bene, niente. Per voi dello scorpione, io non lo so, non sapevo nulla di quanto succederà alla fine, ma se me lo permetti, sai cosa dicevano le stelle di questo mese? Le stelle favorevole annunciano una situazione straordinaria. Se avete deciso di cambiare lavoro o di smettere il lavoro che voi fate in questo momento, le stelle vi sono favorevoli. Beh, diciamo che è appropriato. Quindi, professionalmente, ci sono delle novità che sono già a partire da domani, se vogliamo... Se vogliamo essere precisi. Precisi, precisi. In campo sentimentale, se siete in coppia, vi troverete nello stato d'animo ideale per valorizzare il rapporto con tutto ciò che è per rafforzare la complicità e l'amore. Quindi, diciamo che... Non sapendo nulla di quanto dirò alla fine, cioè direi che l'ha proprio azzeccato. Si, spieghiamo magari ai nostri telespettatori. Io l'avrei voluto dire domani, però lascerò il programma, per cui si fa riferimento, insomma, a questi grandi cambiamenti. A questi grandi cambiamenti. Ma cambiamenti che ci porteranno, Claudia, ad avere un percorso, permettetemi di portare via due minuti. Un minuto. Non troppo, che poi mi emoziono. No, diciamo che, avendola conosciuta in questi tre mesi, devo dire, una persona estremamente sensibile, una persona veramente che ti lascia, ti ha lasciato a suo agio. Non è una che faccio la conduttrice e devo essere io. Lascia parlare le persone che sono sedute qui. E quindi, tutto il bene che mi permetti, che posso avere per una nipote, ecco, io te lo auguro veramente col cuore. Ma credo che te lo augurano anche tutti gli ascoltatori. Grazie mille. Diammi un po' i numeri fortunati. Da giocare, anche qui. Diciamo che per voi dello Scorpione, i numeri da giocare sono sulla ruota nazionale e sono 667790. Quindi 667790. Che li abbiamo già dati da un'altra parte, però li ho dati per il cancro. Siccome, sai, la gente è molto attenta, dice come cancro, come è possibile, siccome per voi del segno dello Scorpione, questi sono i numeri che dovete giocare. Va bene, quindi non fa niente. 667790 nazionale. Andiamo avanti. Sagittario. Ah, bravissima. Allora, cari sagittari, un mese, diciamo, dove molti di voi dovranno cercare di programmare degli esami. Chi vuole laurearsi, programmi veramente il tutto. E naturalmente, l'autunno per voi del sagittario sarà il periodo fondamentale su tutto quello che in questo mese di aprile seminerete e raccoglierete professionalmente, sentimentalmente e, metto la pure, anche giocando all'otto. Quindi iniziare a lavorare adesso per poi cogliere i frutti. A fine anno. Ruota di Genova, 1, 7, 18. E questi sono i numeri. Andiamo avanti con il segno del Capricorno. Bravissima. Cari Capricorno, in questo periodo il vostro segno ha dato un po' a desiderare e quindi in questo mese di aprile dovete avere meno paura, buttatevi nella mischia, cercate di risollevarvi, anche perché per voi i mesi iniziali di questo 2015 non sono stati positivi. Però dal mese di aprile qualcosa si dovrebbe smuovere ma si smuoverà sotto vari aspetti. La cosa che per voi del Capricorno è fondamentale è il percorso professionale. Quindi, piano piano, ricomincerete a salire i gradini. Quali sono i numeri? I numeri sono sulla ruota di Napoli 31, 63, 84. Quindi 31, 63, 84 per il Capricorno a questo punto non ci resta che andare al segno dell'acquario. Bravissima. Ma sai che sei... Sto imparando. A parte l'errore cancro ginello. Ma non era un errore. L'emozione di avermi qua seduto vicino a te. Eh sì, è vero, è vero. Allora, cari Acquario, eccoci qua. Per voi dell'acquario invece sarà un mese in cui dovrete valutare attentamente quello che volete veramente dalla vita. Anche perché in questi mesi voi dell'acquario avete fatto di tutto. Avete cercato di iniziare un nuovo lavoro, iniziare una nuova storia. Diciamo che le storie collaudate hanno un proseguo ed è positivo. Mentre per voi che volete qualcosa sempre di nuovo, questo mese di aprile sarà il mese in cui ci saranno grosse, grosse novità. Sotto tutti, tutti gli aspetti. Quindi tenersi pronti Pronti, esatto. Per voi invece i numeri da giocare sono sulla ruota di Roma e sono il 36, il 69 e l'87. Ripeto, Roma 36, 69 e 87. Chiudiamo. Chiudiamo con il segno dei pesci. Ok, cari pesciolini, voi che volete sempre sguazzare nell'acqua, avete questo mese di aprile un mese decisamente a volte in sordina ma a volte anche in salita, arcobaleno. Quindi per voi tutto quello che avete fatto nel mese di marzo lascerà il segno. Ma il mese di aprile sarà il mese in cui se avete deciso di cambiare casa o rimodernare la casa o fare dei lavori in casa, questo mese è il mese in cui potete programmare e poi il mese di maggio li effettuerete. I numeri? I numeri sono da giocare sulla ruota di Bari e sono 1, 25, 36. Ripeto, Bari, 1, 25, 36. Volendo fare un attimo un riassunto, magari per chi appartiene ai primi sei segni e che non è riuscito a seguirci nella prima parte, quali sono quelli più fortunati? Ma direi che, lo sai che per me sono tutti i 12 segni fortunati, quindi direi che l'ariete, il cancro, cioè siete un po' tutti fortunati. Direi di non fare una classifica, permettimi, anche perché se no dovrei dirgli tutti i 12 e sarebbe poi brutto. Ma magari dire semplicemente quali sono gli aspetti di ognuno? Per cui l'ariete abbiamo detto l'amore. L'ariete direi che è un segno tenace, determinato o ha voglia sempre di fare, molto per maloso. Il toro è un segno dove a volte sa essere dolce, sa essere disponibile, a volte meglio lasciar perdere. I gemelli sono ambivalenti, cioè momento sul pero, momento sul melo, quindi... Bello questa, questo modo di dire non lo conoscevo. Il segno del cancro sono determinati ma sono pungenti. Il leone dove vuole ruggire, ruggisce. La vergine, la dolcezza della vergine sotto vari aspetti però sa anche lei essere tosta. La bilancia pesa sempre tutto quello che fa o quello che dice. Lo scorpione lasciamolo perdere anche perché se... Attento! ...butta gli artigli siamo fregati. Non lo fare stasera. No, assolutamente no. Il sagittario a volte ha una dolcezza ma il sagittario a volte vuole essere sempre al centro dell'attenzione però è un segno dolcissimo. Capricorno, permettimi, sono del capricorno, non posso dire bene del capricorno, non è vero. Siamo testardi, cocciuti e dove vogliamo arrivare dobbiamo arrivare. Iniziamo mille lavori e li portiamo a termine nessuno. L'acquario è un segno dove la gente si rispecchia perché vorrebbe vedere qualcosa di buono e naturalmente il segno dei pesci è un segno dove la vita deve sempre essere in prima linea. Tra l'altro prima di chiudere hai anche azzeccato in un certo senso il finale dell'Isola dei Famosi. Tutti davano per scontato Scanu e io naturalmente avevo detto che era uno dei favoriti anche se in effetti i voti sono stati tanti perché l'ultima votazione con la Roderiguez è stata una dura lotta una dura lotta però ha vinto lei perché non non doveva essere una cosa scontata io sono contento che hanno vinto le Donatella bene bene in ogni caso Claudia io da parte mia ripeto è stato un vero piacere essere qui con te lavorare con te in questi tre mesi e io ti dico buona fortuna ma nel vero nel vero profondo del cuore. Grazie mille grazie tante noi intanto ci ritroviamo domani ve lo prometto per una nuova puntata di Angoli adesso linea alla nostra rubrica il lavoro che vorrei poi le notizie del TG ci ritroviamo quindi sempre qui domani alle 19 per una nuova puntata di Angoli non mancate buona serata